Sì, guarda, non facciamo né buonismo, né perbenismo, noi siamo proprio così, guarda. Quando viene messo in dubbio il loro fair play, anche io ho regito così. Se tu mi dici che sono un bugiardo, un ladro, io, che sono puro, per usare un termine usato da Joe qualche tempo fa, mi sarei arrabbiato. Non puoi dire un bugiardo a qualcuno che non lo è. Andiamo avanti. Novelli sposi, per favore, mi date la busta nera di Pechino Express. Mamma mia, sono lì. Toto, non vale la pena. Ci sono valori completamente diversi in campo. I valori li conosciamo molto bene, Matteo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare di questo. Guardi i tuoi di valori. Eh, non ti preoccupare. Che forse te li sei dimenticati. Eh, sì, proprio. Bella, ferma con le parole perché ti accorcio veramente di altri 10 centimetri. Dovresti dirlo a tuo marito questo, non a noi. Ma guarda, sei molto brava a fare lo show, infatti è giusto che tu sia ancora qui a fare televisione. Io non ho ancora fatto il mio show. Tu sì. Ah, non c'è la bella.